Un saluto dal Tg della Mobilità. Oggi pomeriggio a partire dalle 17, corteo tra Piazza dei Sanniti e Piazza Vittorio, circa 5.000 persone sfileranno lungo Via degli Ausoni, Via dello Scalo di San Lorenzo, Porta Maggiore, Via Statilia, Via Santa Croce in Gerusalemme, Via Conte Verde. Sino alle 19, possibili chiusure al traffico, deviazioni per nove linee tra bus e tram. Prosegue secondo i tempi previsti il cantiere di Piazza Pia per la realizzazione del sottopasso veicolare. Entro dicembre 2024 i lavori saranno terminati, ha assicurato ieri il sindaco Gualtieri, nel corso di un sopralluogo. Intanto è stata realizzata una passerella pedonale provvisoria tra i giardini di Castel Sant'Angelo e Via della Traspontina per dividere il flusso pedonale dal traffico dei veicoli a ridosso del cantiere.